Diciamo che su questo argomento ci sono diverse scuole di pensiero, tutte sicuramente valide, tutte rispettabilissime. C'è chi intende solo un compimento letterale e futuristico l'Apocalisse, però mi sembra quello meno idoneo. C'è chi intende un avvenimento che si riferisce solo ed esclusivamente al passato, intendendo Babilonia come la Roma imperiale e basta, e anche qua abbiamo una grande limitazione. Io sono più su una linea intermedia, io credo che vi sia nell'Apocalisse un grande uso, come è noto dalla letteratura apocalittica, un simbolismo, un'allegoria che parte sicuramente da dei principi che erano in essere in quei tempi, perché sicuramente l'Apostolo Giovanni parlava di chiese effettivamente lì in Asia Minore che c'erano con problemi veri, con situazioni vere, con un sistema malvagio sotto il principato di Domiziano e di altri imperatori, come Nerone, Diocleziano, eccetera, che erano degli anticristi malvagi, erano veramente al servizio del maligno e perseguitavano la chiesa. Ecco, sicuramente fa riferimento a quegli eventi storici, concreti, ma non si limitano a quelli. Quindi lì dove io credo, da un mio personale intendimento dalle scritture e di questi passaggi profetici, lì dove ogni qualvolta noi vediamo dei poteri che si oppongono al messaggio di Gesù, si oppongono all'umanità, a quello che è buono, è giusto, è vero. Ecco che lì vediamo il soffio del demonio, lì vediamo in azione, diciamo, una di queste bestie, descritta appunto in Apocalisse, che viene supportata da una seconda bestia rappresentante, diciamo, la falsa religione, piuttosto che un'ideologia, piuttosto che comunque una filosofia malvagia. Ecco, questo è quello che io ritengo più attinente, diciamo, alle profezie bibliche. Tutto questo poi convergerà verso un'ultima impostura finale, verso un'ultimo, diciamo, un'ultima manifestazione che sarà proprio quella dell'Empio, alla fine, diciamo, dei tempi, con un sistema che intanto accompagnerà, come dire, l'apparizione di questo uomo del peccato. Quindi potremmo dire che ogni qualvolta noi abbiamo visto nella storia, diciamo, come dire, città che venivano costruite contro le leggi di Dio, noi vediamo Babilonia. Certamente l'Apostolo Giovanni sicuramente faceva riferimento alla Roma imperiale, ma non per, come dire, determinarsi solo su quella Roma imperiale. Lì, ogni qualvolta noi vediamo la malvagità, l'opposizione, come dire, ai valori, all'etica, alle cose giuste di Dio, noi vediamo proprio l'insorgenza di Babilonia, che poi confluirà, ovviamente, in una Babilonia finale, che sarà quella escatologica. Io credo che questa, diciamo, interpretazione che tiene conto sia della storia, sia dell'allegoria e sia del compimento ultimo, credo che sia, a mio avviso, l'interpretazione più attinente a quelle che, diciamo, noi leggiamo nelle Sacre Scritture si compirà. Quindi non mi soffermerei tanto su il sistema islamico e basta, o sul sistema, che ne so, cinese e basta, sul sistema comunista o sul sistema nazista o sul sistema capitalista e via e via discorrendo. Tutti questi sistemi che non tengono conto dell'uomo, che si vogliono mettere al posto di Dio, naturalmente sono dei sistemi Babilonia, dei sistemi anticristici e molti anticristi erano già sorti all'epoca apostolica in cui Giovanni scrisse le sue epistole. Quindi quanto più possiamo ritenere a ben ragione che vi siano ancora oggi diversi anticristi. Chi è l'anticristo se non colui che nega che il Cristo è venuto nella carne. Quindi a quell'epoca si riferiva sicuramente all'eresia gnostica docetista, che negava l'incarnazione del Figlio di Dio. E oggi, naturalmente, tutti coloro che negano, diciamo, l'incarnazione del Figlio di Dio fanno parte di quella fila spirituale anticristica. Quindi troviamo ovviamente lo spirito dell'anticristo nella massoneria, nelle sette, come i testimoni di Geova, che negano la divinità, la Deità di Gesù Cristo nell'Islam, perché è una religione che naturalmente nega la divinità di Cristo, nega la sua incarnazione di Gesù che è venuto in mezzo di noi, Gesù che si è fatto uomo come noi per portarci la redenzione, per portarci la salvezza, per essere veramente quell'agnello sacrificale che è morto per noi in croce. Quindi sotto il profilo spirituale tutti quelli che negano la divinità di Gesù Cristo hanno lo spirito dell'anticristo. Poi naturalmente vediamo in Babilonia ogni sistema che va contro la verità, che va contro la giustizia, contro la pace. Quindi abbiamo questa buona interpretazione per capire anche gli eventi che ci circondano. Quando noi vediamo la gente che viene ricattata, viene oppressa, viene tolto il lavoro, noi vediamo già l'azione dell'anticristo. Quando vengono fatte leggi antiumane, insensate, che generalmente il sistema del male si prefigge sempre una propaganda per il bene, ma in realtà il suo scopo è, come dire, è opprimere i popoli. Quindi noi dobbiamo essere desti, dobbiamo essere intelligenti, comprendere che l'Apocalisse è un libro che ci insegna a vivere il nostro presente, ci incoraggia facendoci sapere che Cristo ha già vinto e noi parteciperemo della sua vittoria, rimanendo fermi, perché coloro i quali rimangono nella sua grazia, dice, saranno coloro che accederanno all'albero della vita, coloro i quali riceveranno la corona della vita, che è corona, simbolo di vittoria, come oggi potremmo paragonare, non so, una medaglia d'oro che viene data a uno che ha vinto. E noi vogliamo vincere come? Perseverando nella fede in Dio e in Gesù Cristo, nella sua opera perfetta, completa, compiuta alla croce, dimorando nella sua grazia, camminando nei comandamenti di Dio con gioia, con felicità, perché i suoi comandamenti non sono gravosi, perché in noi è stata data una nuova natura e con l'aiuto dello Spirito Santo noi possiamo camminare in novità di vita. Quindi credo che ci sia degli aspetti molto, molto spirituali, simbolici, che comprendano sicuramente tutte quelle, diciamo, formazioni che si sono mostrate lungo il corso dei secoli nella storia, ma che altresì stiamo raggiungendo un apice, un epilogo ultimo, che sarà proprio l'ultimo evento escatologico, dove veramente l'impostura finale del marchio della bestia, cioè dell'uomo che vuole mettersi al posto di Dio, perché sei il numero d'uomo, lo scrive lo stesso Apostolo Giovanni, e il numero d'uomo sarebbe sette meno uno, simbolo di precarità, di imperfezione, di caducità, che altresì invece vuole porsi al di sopra. E questa sarà l'impostura finale, quando l'uomo vuole identificarsi con Dio. E allora a quel punto si raggiungerà l'apice che noi leggiamo in 2 Tessalonicesi, che a quel punto Gesù Cristo tornerà con i santi angeli di Dio, con il soffio della sua bocca, distruggerà questo sistema, abbatterà tutti questi sistemi malvagi, distruggerà l'empio con il soffio della sua bocca e instaurerà il suo regno di gloria. Noi veramente saremo uniti a Lui nella risurrezione per sempre. Poi sarà l'avvio degli eventi finali, ma noi saremo già con Cristo. Gloria al nome di Dio.